Allora, buongiorno, è con noi nel programma degli incontri con i fumettisti che abbiamo convocato, abbiamo chiamato per portare alla loro esperienza un grandissimo fumettista italiano che lavora sul mercato internazionale. Io sono veramente contento di averlo qua, parliamo di Carmine Giandomenico che è un fumettista della scuderia della DC Comics americana, della Marvel sia americana che italiana, che immagino che molti di voi conoscano la mano, le pubblicazioni di Carmine Giandomenico che adesso pian piano ci illustrerà ed è conosciuto per aver disegnato il libro a fumetti sulla storia di Daredevil, famosissimo personaggio della scuderia Marvel, giusto? Buongiorno, sì. Della scuderia Marvel dei supereroi. Grazie Carmine di aver accettato il nostro invito, di essere qui con noi, lui ci racconterà la sua esperienza e il suo metodo di lavoro, a questo punto mi taccio e lascio la parola a Carmine. Grazie Carmine, benvenuto a tutti quanti i ragazzi. Grazie a te Antonello, grazie per questa occasione, buongiorno a tutti i ragazzi. Dopo questa presentazione così esaltiva è difficile iniziare a parlare, però vabbè, faccio il fumettista da più di 25 anni ormai quasi e diciamo che la mia esperienza parte molto dal basso come tutti. Appartengono a generazioni di fumettisti un po' da spartiacque rispetto al fumettista moderno, perché parto da una generazione dove non esisteva internet, dove era impensabile dire oggi per una lezione in DAD, come oggi, all'epoca era proprio impossibile. Insomma, è nato nel periodo in cui malapena c'era il pazzo, il promosso pazzo e trasmissione di dati tramite il telefono. Quindi questo mi porta ad essere un professionista che ha passato il suo percorso professionale più di varie epoche, di varie mutazioni del mestiere nel tempo, soprattutto anche con l'avvento della tecnologia. Ma passando un po' al nostro discorso, al nostro incontro, la cosa a cui punterei molto e cercare di capire tutti quanti insieme oggi è, diciamo, cos'è per voi il fumetto? Cioè, cos'è? Di interrogarsi su cos'è l'oggetto che si ha in mano quando si dà in edicola a comprare questo libro. E' un libro? Non è un libro? E' un libro illustrato? Non è un libro illustrato? Io consiglierei di iniziarlo a pensare più come un linguaggio. Quindi, tendenzialmente, visto che frequentate l'accademia con la scuola artistica e quindi tutti quanti collegati tendenzialmente alla passione che vi lega, che è quello del disegno, della matita, di rappresentare ciò che vi circonda, e quindi la matita è il nostro linguaggio, è il nostro orfabeto, io inizierei a definire quasi la nostra dattilografia temporale, perché il fumetto, prima di tutto, è un linguaggio che scorre e racconta il tempo. Come fa a raccontare il tempo il fumetto? Questo attraverso una sequenzialità di scansioni fatte all'interno della pagina. La pagina, come ben sapete, è suddivisa per vignette, questi riquadri che poi li allarghiamo, li strecciamo, li stringiamo al nostro piacimento. Basta vedere molto il fumetto giapponese per intenderci. ma questa temporalità ha dei linguaggi e dei codici che sono molto vincolati e molto simili, gemelli diciamo, quasi gemelli separati quasi dalla nascita, allo stesso linguaggio che si ha nel cinema. Teoricamente il fumetto si potrebbe accostare anche come se fosse una sorta di mega storyboard di film mai realizzati al cinema, ma bensì disegnati. Però questo che comporta un fumetto? Il fumetto ha un vantaggio eccezionale, che è quello di poter ammortizzare i costi e raccontare adesso alle fantastiche, della fantascienza più assoluta o all'elemento più primitivo, anche realizzando semplicemente il contesto, il personaggio con una linea. Quindi questo, secondo me, è il primo step da iniziare a capire che cos'è per voi, che cosa rappresenta per voi, qual è la vostra indole nel confronto di questo linguaggio, di questa dattilografia temporale. Il tempo fondamentale all'interno del fumetto, questo viene scandito non tanto dal numero di vignette, che molto spesso uno dice scandisco il tempo per vignette, ma dalla separazione dalle vignette. La cosa che dovete far caso è che queste vignette hanno sempre la separazione standard del mezzo centimetro tra una vignetta e l'altra. Questo è uno spazio temporale che ti comporta a dare un tempo di razionalizzazione del cervello e dell'interpretazione visiva all'utente, che c'è un passaggio tra uno stacco tra una vignetta e l'altra di pochi minuti, di poco tempo. Quindi, a meno che non ci sia un distanziamento temporale più distaccato, in quel caso subentra la diascaria, non so se vi avremmo fatto caso, alle ore 13 in lontana Firenze, a Careva, ciò. Subentra la diascaria descrittiva del tempo. Però nella sequenzialità di un personaggio che si muove all'interno della pagina è dettata da mezzo centimetro, perché quello è il tempo che il cervello riesce a assimilare il movimento manicante. Però che succede se noi allarghiamo queste due vignette? Cioè lo spazio tra le due vignette aumenta. Aumenta lo spazio che la nostra interpretazione deve riempire. e quindi crea un effetto rallenti, rallenta la narrazione. E nel stesso tempo, invece, se le sovrapponiamo, c'è un'accelerazione. Ti fa capire che quei due movimenti, quelle due situazioni descritte all'interno della pagina, avvengono quasi simultaneamente. Un esempio, per esempio, sono i manga giapponesi, i fumetti giapponesi, dove nelle azioni vedete queste vignette o personaggi che scavaltano anche la vignetta stessa, per aumentare le accelerazioni. Cosa che poi è stata ripresa anche negli anni 80, 90, dal fumetto americano. Tendenzialmente si usava, fino a poco tempo fa, fare una sorta di generalizzazione degli stili. Stile americano, stile europeo, stile italiano. Ma non tanto per lo stile grafico, ma appunto per lo stile e il modo di raccontare. Per dirvi, lo stile americano, quello dove comanda di più il linguaggio del corpo, dove c'è il movimento, c'è uno sviluppo della trama epica, no? Molto più coinvolgente. Quella italiana più delegata all'unioare, quella europea, diciamo quasi d'avventura, e quella nipponica, dove c'è una congestione della propria cultura, con la natura di elementi naturali, del fantastico e quant'altro, con delle accelerazioni più forti. Se sono poco chiari, intervenite, se volete qualcosa, perché non sono un professore, e quindi parlare un pochettino a questa situazione di andare a distanza, mette un po' di ansia, è come parlare in un teatro vuoto, in silenzio. Stai andando benissimo. Ragazzi, se volete intervenire, potete intervenire. E quindi diciamo che questo per me è il fumetto, studiare un linguaggio è la sua narrazione, perché non è il bel disegno, il fumetto. Il fumetto può essere qualsiasi cosa, anche una linea, se è semplicemente un pazzetto fatto con due punti nello smile, potete raccontare la storia più tragica del pianeta, e far commuovere i piangiti di milioni di persone. Non è detto che dobbiate per forza realizzare concretamente un volto realistico. Perché dico questo? Non è che sono contro il disegno realistico, perché il disegno realistico è quello che non se non è più richiesto, ma perché il fumetto è onomatopeico. Il fumetto, il suo punto rebole del fumetto è il sonoro, non ha il sonoro. E quindi, cos'è che va a sottire il sonoro? L'onomatopea. Quindi l'onomatopea è un grafismo, è una scrittura, un linguaggio grafico che ha un linguaggio perché deve trasmettere la sensazione visiva di un rumore, che è quel crack di una porta o delle ossa che si rompono, uno splash dell'acqua, È scritto in un certa maniera, perché? Perché deve rappresentare quel tipo di rumore. Quindi che cosa succede? Inserire un grafismo, diciamo, astratto, perché comunque è la rappresentazione di qualcosa di astratto che percepiamo solo con il sonoro, innestarlo su un disegno troppo realistico, quasi da iconografia, da quadro, non so quanti di voi per dirvi possano conoscere Alex Ross, bellissimo illustratore americano, o disegno troppo molto realistico. Alex Ross sta facendo tutte le cover variant ultimamente, giusto? Di Hulk. Esatto. Sulle copertine è funzionale il disegno realistico, però per quanto riguarda una storia di fumetti dove inserisci questo elemento underground, che poi deriva dall'arte underground, dalla street art, cosa accade? Che cozza, nel senso che va a cozzare, non c'è un equilibrio visivo, perché c'è un grafismo stilizzato come un elemento iperrealista. Quindi crea proprio un contrasto, è quasi un disturbo all'occhio. Questo è nulla togliere alla bravura dei disegnatori di fumetti realistici, assolutamente. Però, diciamo che queste sono delle prime analisi che molti autori prima di me, come Frank Miller e Eisner, hanno valutato che il fumetto, il tratto del disegnatore a fumetti, deve essere interpretativo di ciò che ha l'intorno e deve essere pop, come è pop l'onomatopea stessa, perché all'interno del fumetto, essendoci l'onomatopea, anche il disegno deve essere equilibrato e equiparato all'onomatopea stessa. Quindi, diciamo che ci sono vari stili, varie cose di cui si possono parlare. Nel primo incontro con Giuseppe voi avete fatto un discorso molto bello, molto affascinante che riguardava il character design del personaggio, come studiare un personaggio, come dargli le movenze, come dargli la postura, è una cosa di cui nelle scuole di fumetto dove insegno anch'io, diciamo, si parla spesso per dire che se mi metto le mani è così e sto pensando, il primo personaggio a fumetto che viene in mente è Dylan Doglio, oppure se spettano le manine è così, tipo I Love You, tremila, eccetera, viene Spider-Man che viene architurato a questa cosa, quindi ogni personaggio ha la propria caratterizzazione, ma il discorso è che però questo personaggio all'interno del fumetto è un disegnitore dei fumetti che dovrà affrontare un'eventuale storia, un'eventuale pubblicazione e collaborazione e che deve sapere muovere quel personaggio e in un'accademia delle belle arti ovviamente la quadra padrona è il corpo, bisogna sapere bene cos'è l'anatomia, come si muove il corpo nello spazio e nella sequenzialità poi all'interno della pagina stessa. Come vedete il fumetto spesso è considerato quasi come un albo volco veloce che si sfoglia veloce per gli utenti, però in realtà c'è un lavoro e una ricerca al suo interno artistico ma soprattutto narrativa molto importante perché deve mantenere dettagli degli equilibri. Quindi ci sono tante cose di cui si può parlare. Quello che vorrei puntare oggi è cercare di vedere come il corpo viene contestalizzato all'interno della pagina e come un corpo si muove quali siano i suoi punti articolari. Questo perché? Perché il disegnatore di fumetti deve replicare questa stessa figura in movimento più volte in un tot numero di pagine e deve avere un bagaglio visivo memonico di intuizione soprattutto su tutto ciò che è il movimento capire come questo movimento del corpo va inserito nello spazio perché anche la pagina oltre agli equilibri di una buona anatomia di una buona prospettiva ha bisogno anche di un'impaginazione cosa che si usa anche per il reparto illustrativo delle semplici illustrazioni dei libri devi saper raccontare tutto quanto con un'immagine sola quindi devi dettare con i giusti equilibri bianchi e neri con le diagonali del foglio così la stessa cosa vale per la narrazione poi vi farò vedere se volete degli esempi insomma che ho preso un po' dall'internet di come è cambiata anche la narrazione quindi cos'è poi il corpo e quindi tutto il corpo umano e i suoi movimenti quindi passeremo un pochettino sulla struttura cos'è la struttura del corpo non sarà una lezione di anatomia quindi non vi impanicate non è che uno deve sapere fino a muscoli a memoria ma bensì della struttura mobile i punti articolari a cosa servono e perché bisogna capirli di come si muove adesso vi faccio un esempio a tutti ad esempio più blando qual è il punto il punto articolare del vostro braccio cioè il braccio dove si attacca al corpo alla spalla siete sicuri? siete tutti sicuri? cioè voi dite che è qui allora in realtà alla scapola alla scapola ma la scapola è attaccata alla struttura dello scheletro? o è un osso osso? osso mobile è sovrapposto sopra sopra il musco no non lo so no scivola sulla gabbia toracica allora adesso vi faccio questa equazione che è il riassunto della divina commedia allora Dante tende a Beatrice Beatrice tende a Dio quindi la divina commedia si può riassumere con Dante che tende a Dio ci siamo? ok l'osso del braccio tende alla scapola ma la scapola tende alla clavicola perché è collegata con la clavicola che si collega sul mano in Dio ci siamo? quindi l'omero tende alla clavicola infatti se voi adesso col ditino vi toccate qui e ruotate il braccio sentite che vi si muove la clavicola ci siete? quindi il vostro vero punto articolare del braccio è esattamente qui non è la spalla ma è la clavicola tant'è che se vi rompete la clavicola in un incidente spero mai ma soprattutto se domandate a un portiere che può di calcio che spesso i portieri si infortunano appunto con la rottura della clavicola portano per un tutore che tiene sollevato il braccio perché se no perderemmo completamente il nostro braccio dal corpo quindi è tutta una struttura mobile quindi è la clavicola quindi che cosa succede? un esempio più blando che vi posso dire quando andate a disegnare un personaggio col braccio alzato si tende subito e lo rialzare solo in questa parte qui quindi è come se voi avreste tagliato con l'accetta il personaggio e non lo rendete più naturale nel suo movimento quindi dovete spostare prima la clavicola che va verso il mento e poi spostare tutto quanto il braccio verso l'altro questo per farvi un esempio di capire i punti articolari del nostro corpo perché servono per poi riuscirli a costruire mnemonicamente perché quando si è sotto consegna e ve lo dico poi vabbè Giuseppe è già stato molto esaustivo sulle tempistiche che consegna dei nostri lavori con le esperienze degli Stati Uniti cosa accade che non hai il tempo di farti insetti di fotografia di quel movimento a meno che non c'è un compagno super figo palestrato che ti permetta o un compagno che insomma riesci a fare un set fotografico devi saperlo muovere con la tua testa e saper muovere la camera intorno a lui sapendo come si muove in questo determinato spazio e un maestro in questo è stato Gianni De Luca illustratore tra credo negli anni 70 e 80 spero non sbagliarmi Andrea mi corregga storicamente se mi posso sbagliare io delle volte con le date le faccio un po' in cascetta come si dice un bellissimo illustratore di fumetti che ha diciamo aperto la strada ad una sequenzialità temporale della figura nello spazio adesso io vi faccio vedere innanzitutto dove ho no eccola qua ok allora io devo fare presenta ora giusto presenta ora sperimentero ecco qui e condivido scusate il caos della mia computer perfetto stai condividendo ok si sto apro intanto la la vignetta non so se la vedete io adesso ok questo è tratto dal suo romeo e giulietta un libro illustrato che vi consiglio soprattutto perché qui c'è tutta la dittanza c'è tutta è concepita completamente tutto ciò che serve per saper raccontare sia fumetti ma nello stesso tempo la vignetta stessa questo intenzialmente è una doppia pagina di un libro illustrato vedete come se fosse un vignettone unico no quindi che succede però ci dà la sensazione del movimento guardate diciamo il romeo che scavalca il muro passeggia ci porta l'attura a salire le scale fino a Giulietta che sta uscendo da dietro alla finestra in alto a destra apre la porta e si affaccia al balcone guardate bene la struttura come ha una diagonale che parte in alto a sinistra fino in basso a destra dove abbiamo prima il personaggio più lontano di romeo che sta scavalcando il muro a lui che sta in basso ma abbiamo anche una lettura orizzontale che appartiene a una parte centrale diciamo della vignetta enorme che abbiamo dove c'è un taglio parallelo orizzontale con la sua presentazione sia di Giulietta attraverso le guglie in alto dell'immagine ma lo stesso Romeo che cerca di passare paro paro al muro di nascosto per poi scendere parallelamente però attenzione guardate cosa fa il De Luca taglia diciamo l'inquadratura finale la chiude con il balcone che riprende la struttura orizzontale rispetto a quella verticale del movimento di due personaggi che stanno venendo verso il lettore questo perché uno blocca il movimento ti fa capire che qui si fermano i personaggi non vanno oltre non c'è una continuazione del movimento ma la struttura orizzontale della facciata del balcone proietta al giro pagina cosa che non c'è sulla parte nostra a sinistra come vedete c'è una via che invece tende a stringersi verso l'interno perché ci deve portare alla lettura verso destra come vedete questo si parla quasi di un'impaginazione di una situazione unica che deve raccontare con un movimento di un personaggio singolo al suo interno ma se io questa struttura la apro con il photoshop e ve la riquadro mettiamo un colore un po' psichiletico tirare faccio così è meglio faccio il resegno così forse riuscire a capire più che verbalmente ok quindi ora questo è quello che vi dicevo nel movimento del personaggio e della struttura vedete questo è quello che vi dicevo il movimento che lui fa è questo lineare e poi lui scende giù no vedete ta ta ma questo movimento per dirti x centrale che è quasi la vignetta a fumetti rettangolare è ripetuta proprio qui sulla presentazione appunto di Giulietta poi c'è quel movimento che vi dicevo che scendeva in basso con la sequenzialità la stessa cosa fa Giulietta fino a questo punto dove qui c'è invece il blocco che vi dice lo che vi porta a una chiave di lettura qui invece come vedete la strada fa questo movimento come per dire guarda che io la lettura te la dico che devi andare di qua non è chiusa non poteva metterci un palazzo per dirti un siluetto così avrebbe chiuso la struttura però avrebbe resta rigida quindi questo è per farvi capire di quanti elementi il linguaggio del fumetto ha al suo interno tra bilanciamento e spostamento all'interno della pagina non è semplicemente il bel disegno altro esempio che poi viene ripreso da un grandissimo artista che è Frank Miller è questo che è la tavola di elettorale di Seghain vedete anche lui omaggio il maestro De Luca con questa discesa della scala aspetta che ve lo segna con il photoshop sennò a parole ho paura che non arrivi vedete lui scende in forma quasi a vortice vedete a spirale che Frank Miller ha guardato molto questo artista a livello tecnico narrativo perché vedete e realizza il momento vedete quante volte viene conato il corpo e se uno non conosce la struttura del corpo il movimento del corpo inizia a essere complicato ma soprattutto come cambiano anche l'inquadratura a seconda della prospettiva che si ha perché è fondamentale inserirne nel contesto prospettico anche in quello che si vuole raccontare per esempio quando vi parlo anche del bilanciamento della pagina che continuo e insisto molto perché il linguaggio del fumetto è soprattutto quello anche Frank Whiteley utilizza le diagonali quando vi parlavo delle diagonali del foglio no? Ci siete? Perfetto Frank Whiteley in questa pagina ha deciso di sfruttare questa diagonale che scende dall'alto destra in basso a sinistra perché abbiamo l'elemento presentato che ha il taglio del volto inquadrato leggermente di profilo di tre quarti però con un'inclinazione quasi a seguire la diagonale qui c'è una struttura dove c'è il personaggio che imposta lo stesso movimento in diagonale con il personaggio in cui si sta confrontando che entra però inclinato in avanti quindi mantenendo quella diagonale il personaggio che risponde al primo è messo con un taglio in diagonale spostandolo sulla sinistra della pagina poi qui vedete che cosa fa qui di cui è un genio perché lascia uno spazio proprio perfettamente triangolare come se avessi lasciato lo spazio dei due diagonali del foglio del triangolo mettendo i personaggi con lui che si ritrae tendenzialmente con le spalle indietro e lui che continua a seguire questa diagonale dove ti rilascia l'elemento pieno di questa pagina perché il suo elemento centrale che ha deciso di seguire in questa pagina è questa diagonale per bilanciare l'immagine qui mette l'elemento finale che l'occhio ti porta uno e due due elementi più grandi visivi tecnicamente l'ingombro sono esattamente questi in maniera che l'occhio riesce a bilanciare l'immagine io non so se sono stato chiaro se qualcuno mi dica qualcosa perché se sto parlando chiarissimo interagite ragazzi non vi capita tutti i giorni di parlare con un disegnatore di questo livello ok avete notato come ha descritto il movimento articolato che nel libro di semiotica avete recitato la parabola dei ciechi di Bruegel no e come anche nel fumetto vengono utilizzati questi questi sistemi di cui noi con storia dell'arte con fenomenologia delle arti ne parlate come dire nelle arti classiche le arti antiche ma anche nelle arti contemporanee vedete come si si ritrovano quindi interagite non capita tutti i giorni scusami Carmine prego no 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 assolutamente ho fatto benissimo perché comunque il fumetto poi abbraccia un po' tutto io dico che il disegnatore di fumetti diciamo passate nel termine con le due da pinze è un po' un tuttologo che il disegnatore di fumetti deve avere delle dittanze di recitazione di dittanza stilistica storica perché comunque si deve documentare perché se vuole rappresentare un fumetto storico ovviamente non è che posso metterla per gari degli anni 80 in una storia del 1930 quindi devi fare un'operazione di ricerca importante ma allo stesso tempo di adottare un linguaggio narrativo che sia fluido per esempio ho riaperto anche qui un'altra tavola è Frank Whitey che è un grandissimo artista inglese che io lo reputo il Frank Miller della nuova generazione perché Frank Miller negli anni 80 ha sdominato un tipo di linguaggio del fumetto e lo ha diciamo per virgolette modernizzato lo ha reso più dinamico e Frank Whitey lo ha preso e lo ha ritrasportato su carta con una maestria pazzesca ma rimanendo con una gabbia tendenzialmente classica senza vedete queste non sono vignette sovrapposte però c'è un dinamismo spettacolare profilo profilo per quattro che si assesta però non solo la cosa meravigliosa di questa pagina che fino a qui sembra una narrazione normale standard ma guardate bene cosa accade se io faccio questa operazione qui unisco la diagonale di questo con la diagonale di questo cioè queste due inclinazioni di questi assi di due volti non è casuale perché vi porta alla lettura centrale dei personaggi sotto cioè io questo profilo lo potevo disegnare anche così normale usare per un altro colore lo potevo anche disegnare messo così di profilo e funzionava lo stesso devo metterlo a ridere invece no lui lo inclina perché perché lo inclino perché mi deve portare la chiave di lettura di questa vignetta centrale la stessa cosa questo tre quarti il tre quarti potevo tenerlo anche spostato e guardava di qua e metterlo diciamo più dure retta un po' più dal basso invece no guarda in basso con questa linea con questa linea qui perché mi deve portare proprio a questa lettura questa conclusione come anche la palla ha quasi un movimento parallelo e verticale tendenzialmente la palla ce l'ha il soggetto 1 rispetto al soggetto 2 nell'ultima ce l'ha il soggetto 2 è scesa però in parallelo cioè non so se è chiaro di quanto lavoro di narrazione ci sia dietro al fumetto cioè non è solo il bel disegno io questa cosa la potrei anche disegnare veramente con il di smile l'importante è avere l'asse per dirti se io decidi di disegnare lo smile però se io identifico l'asse riesco a raccontarlo nella stessa maniera per farvi capire quel discorso che faceva all'inizio sul fatto che il fumetto deve essere underground e pop nello stesso momento non so se fate segnali di vita ti muoio e impazzisco scherzo avete visto ragazzi quanto è importante la composizione che studiate la teoria della percezione e psicologia della forma no? esatto le famose linee di tensione che vi spiega il professor Vespa non sono una cosa stratta sono poi elementi che vengono usati nella narrazione poi non soltanto del singolo quadro ma anche della tavola esatto esatto professore perfetto esatto è proprio così dovete pensare che la pagina aveva la stessa armonia di un'illustrazione solo che l'illustrazione è composta da più vignette messe in sequenza quando vi dicevo poi l'importanza della struttura del corpo e del linguaggio del movimento questo ci è dettato grazie al fatto del corpo il movimento inserito in una prospettiva il discorso è complicato molto lungo ovviamente in una versione solo in un incontro solo è difficile riuscirla a condensare però per farvi capire tendenzialmente in maniera molto più celere se vogliamo prendo come esempio il maestro che ha lanciato lo stile dei supereroi che è Jack Kirby che è questo creatore grafico dei supereroi cioè erano quasi tutti se non tutti quelli che conosciamo quelli più famosi sono stati ideati graficamente proprio da lui Captain America lo stesso i fantastici quattro a qualcosa delle volte si becca su questo disco e che abbia dato cose che poi gli acquisti all'epoca si congestionavano e tutti che entravano gli stessi studi comunque Jack Kirby perché Jack Kirby voi vedete questo disegno e dite mazza quanto è antico invece in realtà ha una modernità sotto spettacolare ma soprattutto per chi è amante del disegno e dell'anatomia questo disegno è straordinario perché fin di tutto storicizza l'epoca nel senso che vedete quanto è pop quanto è stilizzato proprio come l'anomatopea sembra un cronk cioè tu quel pugno che Capitan America sta dando lo percepisci senza l'anomatopea perché il disegno stesso è stilizzato come se fosse l'anomatopea in più è inchiostrato è rappresentato quasi in maniera fluida guardate il personaggio rosso che sta dietro a Capitan America del devil l'inchiostrazione è a macchie è fluido è quasi dorato infatti Jack Kirby era soprannominato colui che disegnava i bronzi non uomini ma bronzi epici greci che si muovevano ma la potenza di Kirby sta nell'avere enfatizzato il corpo in prospettiva voi dite ma a me sembra una cosa stratta quasi Pollock e invece ha molto più senso lui l'ha estremizzato allora guardate per esempio il pugno quanto è grande l'avambraccio la spalla guardate il piede la gamba quest'altra gamba come tirata guardate qua questo piede questo piede è la metà esatta di questo piede per la distanza messa all'interno vabbè l'avranno messa in prospettiva ma questa prospettiva è esagerata perché perché lui metteva i punti di fuga all'interno dell'interno della pagina cioè li ravvicinava molto per avere un po' l'effetto fisheye diciamo che lì l'orizzonte supergiù si trova su questa parte qui è più alta non è Eurling perché nel fumetto di solito la prospettiva non è quella di architettura ma è una prospettiva intuitiva diciamo che siamo dimentitori dimensionieri nel zergo perché per empatizzare un movimento di un corpo di un oggetto abbiamo bisogno di creare un artefatto prospettico se dovessimo seguire la prospettiva che si fa in architettura normalmente andremo a realizzare delle cose molto fredde è un po' come quando si utilizzano troppe fotografie come reference su un disegno perdi la fluidità del segno non so se sono stato chiaro quindi diciamo che con la prospettiva dobbiamo un po' giocare con il fumetto di un po' detirati ecco non dobbiamo essere tendenzialmente fiscali ovviamente dobbiamo conoscere tutto dalla prospettiva altrimenti non possiamo giocarci e riuscire a imparare a contestualizzare il soggetto all'interno di uno spazio cosa accade qui perché ho segnato questi elementi di Kirby perché di Kirby cos'è che ci fa capire che tutto i punti di fuga nei nostri personaggi si trovano completamente all'interno del riquadro della copertina di solito quando si fa la prospettiva invece i punti di fuga vanno anche ben oltre c'è il foglio quando disegnato invece lui ha deciso di impostare le vignette le illustrazioni eccetera all'interno di questo riquadro questo perché perché enfatizzava appunto il movimento quel pugno che è grande quasi il doppio della testa come fa lui a sapere che è grande come questa cosa qui perché sa che il suo punto di fuga lo trova chiudendolo in una scatola in un parallele dito lo riusciamo ad intuire dove lo ha portato mi sembra quasi cadere sotto il punto del piede poi da questo punto di fuga lui caccia la struttura del busto perché deve averlo frontale per mostrare la stella poi c'è la torsione il bacino poi abbiamo la gamba adesso questo ginocchio quanto mi viene avanti rispetto all'altro come lo faccio a sapere io ovviamente conoscendo la struttura del mio scheletrino so che ha intuito il mio ginocchio si trova qui quindi se io unisco questa linea e la proietto verso la fine della vignetta quindi creo un altro punto di fuga quindi da qui se io mi allargo ho la grandezza del mio ginocchio partendo dall'articolazione del femore questo perché vi spiego quando dovete inserire un corpo in in prospettiva dovete capire che ogni elemento ogni atto ha il proprio punto di fuga e questo Jack Kirby l'avrà capito faccio un esempio se io faccio la struttura del mio personaggio in maniera molto veloce diciamo che voi teoricamente trovate un po' questo lavoro di bozza del vostro personaggio stilizzato oppure a scuola con la costruzione del corpo il pezzo di ginocchia eccetera quindi che succede noi abbiamo aspetta è lungo un disco che non so se lo riuscite a vedere forse è così al meglio ok fate un po' lo scheletrino di questo tipo con la colonna vertebrale è un po' i punti che si usano che poi sono quelli che si usano per l'animazione quando dobbiamo muovere i personaggi nei cartoni animati per dire no cosa avete mai visti per esempio gli attori quando si muovono con quelle tutine nel green screen che poi vengono trasformati in orchi o in cattivi esatto quindi che succede quei pulsantini a parte gli ancoraggi per cui vanno attaccati le varie armature i principali punti che vengono segnati per gli green screen sono sicuramente dietro la nuca il collo le spalle i gomiti i polsi i femori nocchia caliglie e questo è la nostra struttura che ci serve però nello stesso tempo ricordatevi sempre che abbiamo anche un elemento che è la nostra colonna vertebrale che è fondamentale per la torsione del corpo ma tornando all'inserimento prospettico cosa succede? quando voi inserite questo nostro pazzetto in un contesto spaziale che sia prospettico intuitivo quello che volete anche fatto in prospettiva in maniera molto articolare ricordatevi sempre che se dovete spostare questo braccio il punto prospettico per esempio voglio spostare il braccio così io lo mando in prospettiva per la linea dell'omero una radia tutto messo insieme ma per sapere quando mi viene avanti il braccio non devo mai partire a fare il quadrato della mano e andare in prospettiva dietro perché andrete a schiacciare troppo la spalla dovete partire da qua questo è il punto da cui dovete proiettare in prospettiva in maniera che sapete perfettamente di quanto vi diventa più grande una mano dovete partire da punti articolari che sono collegati al corpo che sono spalle e femori poi c'è la colonna vette e dai questi sono i punti per gli atti da spostare da cui dovete partire sempre dal punto dove si attacca la struttura altrimenti cosa succede se io parto dalla mano e mando in prospettiva succede che avrò il corpo tutto quanto figo tutto bello preciso poi c'è la spallina così piccola e poi un pugnone così ma la spalla non può essere così piccola se il corpo è grande ok? deve essere proporzionato quindi la mano mi sarà più grande però avrò la spalla e l'attaccatura al corpo in maniera corretta ok? non so se sono stato chiaro però ho scusato ogni tanto interrompo e chiedo perché ho veramente i dati allora quando vi dicevo anche della distanza e del tempo e del movimento questo è per vedere come si muove la figura all'interno dello spazio non vi parlavo anche della bilanciamento ma anche dell'effetto rallenty o meno l'effetto rallenty si possono ottenere non solo distanziando le vignette ma si possono ottenere anche aumentando le vignette come questa tavola qui del Dark Knight di Frank Miller vedete? io aumento le vignette quindi che cosa succede? tendenzialmente lo spazio di tempo che trascorre tra una vignetta e l'altra è quasi minimale sembra quasi un fotogramma no? fotogrammi di un film no? ta 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 ma ripetute in questa maniera ecco un aumento massivo delle delle vignette che sono una due tre quattro cinque sei setto no dieci 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 quattordici 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 sedici sedici vignette sedici vignette mi comprime il tempo cioè il contempo visivo per ogni vignetta e mi dà la sensazione del running guardate questo bozzolo quindi Miller che cosa ha fatto non ha adottato la tecnica di distanziare le vignette ma di ravvicinare ciò che si racconta al suo interno ed è stata questa la rivoluzione che ha fatto di più negli anni 80 avvicinare la narrazione al cinema cioè la narrazione del fumetto classica a quella cinematografica queste proprie se tu le metti in sequenza ti esce quasi un animatic per un cartone animato per capirci però cosa ha fatto poi Frank Miller ha distrutto anche il concetto del rallentico di distanziamento delle vignette temporali tra l'una e l'altra con il suo fumetto Ronin ad esempio esattamente con questa tavola doppia del Ronin se noi guardiamo la tavola del Ronin la sua il salto del protagonista che abbiamo qui come vedete sulla nostra questo ingobbro di tavola questo spazio di tempo è un rallentino però se ci fate caso la figura sborda e viene verso di noi quindi stile nipponico c'è proprio un sovrasto delle immagini con le vignette vedete tipicamente nipponica di natura nipponica più che americana però nello stesso tempo facendolo in questa maniera e riducendo lo spazio di tempo delle vignette cosa fa? dà la velocità al personaggio che ci viene incontro che ci viene davanti ma nello stesso tempo la più grande generata è appunto che ci dà un effetto di movimento a rallenti quello che oggi fa Snyder sul film 300 non so se l'avete visto il film 300 avete visto il film 300? sì certo sì sì ok avete presente quando c'è la scena di lotta no? quel momento di profilo quella camera che segue Leonide di profilo mentre lotta contro i persiani no? e ci stanno quei rally zoom del movimento sì sì esatto e questo tutto è nato da qui Snyder non poteva pensare quella cosa se Frank Miller non pensava questa cosa tant'è che poi 300 è tratto da un fumetto di Frank Miller che è individuato a leggere perché è molto meglio il fumetto che il film e quindi diciamo che per il momento diciamo eccomi meglio vedere qualche faccia perché sto a parlare solo con Photoshop e mi sento un po' in imbarazzo non sono un professore che ormai ha fatto il callo dopo un anno di dad è un po' complicato potete fare interventi ragazzi se avete bisogno di di chiedimenti voi volete approfondire delle cose io scusate se sono partito subito un po' forse un po' a gamba tesa con molti elementi diciamo di nozioni didattiche pseudo didattiche diciamo degli assaggi didattici e non ho parlato molto diciamo molto free diciamo così però appunto perché voglio buttare un po' sul piatto un po' di cose e sentire anche un po' di cosa pensate cosa mi interessa comunque la cultura la cresci con lo scambio e non solo con l'ascolto ecco certo allora una cosa te la chiedo io Carmine ho come l'impressione che in alcuni momenti soprattutto nel disegno dei supereroi l'anatomia si si esasperi e soprattutto devo dire dai io che ho letto i supereroi negli anni 70 e rivedo oggi i supereroi insomma nel del nel 2000 ho come l'impressione penso sempre a Spider-Man che era uno dei supereroi che io amavo amavo di più l'anatomia si è modificata si è no si è esasperata quasi Spider-Man negli anni 70 era un ragazzino con un costumino oggi invece è palestratissimo allora ti volevo chiedere come è cambiato questo gusto pensi che ad esempio la cultura del del disegno orientale giapponese abbia influito io mi ricordo dei cartoni animati tipo l'uomo tigre dove anche lì l'anatomia cominciava a esagerarsi erano gli anni 80 erano allora ti chiedo era il superuomo americano esattamente c'è qualche influenza esterna del mondo orientale che ha modificato il modo di disegnare della Marvel o è stata una modificazione invece all'interno del tessuto anche sociale americano del gusto allora a livello nipponico sicuramente a livello narrativo sul fatto della sovrapposizione delle lignette o dei personaggi che sfondano le lignette e soprattutto scusami concludo la domanda penso invece che sia successo il contrario cioè che la cultura del fumetto occidentale abbia influenzato quello orientale visto che a un certo punto negli anni 80 c'è stata questa compresenza di queste due suoni diciamo che negli ultimi vent'anni la globalizzazione ha puso un po' tutto il linguaggio però si sta tornando più a una relazione vicino agli anni 70 se tu guardi adesso l'evoluzione grafica attuale dello Spider-Man attuale si sta ritornando ad un'atomia più gracile e più possibile più adolescenziale più realistica non più diciamo da culturista da superuomo no che negli anni 80 gli americani tu guarda Diffle in due marocchi che era partito come uno sfigato il fun di rocchi no da Ghetto che è nato negli anni 70 e negli anni 80 quel puggi è trasformato con un fisico pazzesco di stallone iper scolpito più potente la guardia la reda quindi super soldato quindi tendenzialmente tutto ciò che viene raccontato nei fumetti viene influenzato a ciò che viene che socialmente lo circonda ma nello stesso tempo il fumetto ha anche una capacità soprattutto quando si lascia piena libertà agli autori di avere delle visioni delle tre munizioni che noi pensiamo all'eternauta cioè se tu vuoi leggere l'eternauta se ti sembra una storia ambientata oggi o storie non voglio amolvare posso parlare anche di cose che i ragazzi non conoscono perché vedo che l'età è molto giovanile e la mia barba parla per me dice che sono molto più inglese negli anni quindi potrei parlare di nomi alieni per loro però se si conoscono diciamo questi autori precursori io faccio il nome sempre di Ponte Miller perché è quello che per me narrativamente visivamente artisticamente perché mi piace il linguaggio del disegno ha portato una rottura pazzesca negli anni 80 soprattutto nel mondo fumettistico americano ma non è tanto il fatto per lui di essere portato il linguaggio del cinema e uno stile grafico molto pop all'interno del fumetto lui ha fatto un'interazione di tornare a fare un passo indietro cioè mentre c'era Jim Lee che penso che tutti conoscono che è l'attuale diciamo direttore di C-Comics che ha lavorato su Batman Superman eccetera che ha uno stile grafico che ha uno stile X-Man diciamo sono ordinati grazie al suo grafismo che erano chi è lineati su questa influenza narrativa giapponese di questa sovrapposizione delle vignette quindi la propria è inversa sono tornato a raccontare come faceva Eisner negli anni 30 e 40 c'è quindi ritornata la vignetta quadrata ovviamente le sovrapposizioni le usava quando servivano per un'accelerazione o come lui ha fatto come ho fatto vedere poco fa al contrario trasformandoli cioè quel grafismo che doveva accelerare l'immagine ha trasformato in un rallenty un po' non so se voi avete visto Justice League sì ok è presente il flash che si muove a rallenty si si corre ecco esatto diciamo che lui ha fatto questo tipo di operazione per rendere alla velocità invece la rallenta cosa che comunque non è una cosa cinematografica innovativa questa cosa è stata fatta negli anni 70 anche in madre sì ma questa cosa è stata fatta negli anni 70 una serie televisiva che era l'uomo da 6 milioni di dollari Steve Austin dove che per far capire che il personaggio andava in accelerazione veloce adottarono il rallenty perché all'epoca non c'erano gli effetti digitali di oggi quindi se non inventare delle cose per rendere un elemento disturbante disturbante visivamente per rendere il personaggio che fosse in un'azione più di una dimensione diversa dalla nostra oppure l'ultimo uomo di Atlantico per farne altre citazioni se cercate su internet sono piccole chicche diciamo degli anni 80 70-80 della TV che però a livello visionario erano geniari una cosa che mi colpì vabbè questo è un aneddoto così giusto per stramatizzare riposarci un po' dopo tutto quello che ho detto fino adesso c'era una puntata di questo uomo l'ultimo uomo di 80 quindi come l'amo come acqua almeno vive sott'acqua no? esatto viene proiettato in una dimensione parallela dove l'acqua non c'è ed è invisibile cioè c'è un unico fiume che lui deve andare a nuotare effettivamente muore disidratato e l'acqua è invisibile e riescono a rendere il fatto che lì ci sia l'acqua facendo spostare dei sassolini con il vento perché l'acqua è invisibile cioè capite la follia degli anni 70-80 nel trovare queste chicche no? cioè queste soluzioni la stessa cosa è il mettimento dovete giocare anche un po' nel trovare il modo di raccontare le cose che non è soltanto raccontare in maniera standard che le cose sono funzionali è ben meglio perché poi ogni storia ha quel dettaglio quella cosa che può essere enfatizzata grazie al disegno è un'intuizione dello sceneggiatore anche ma di chi lo disegna se viene preso e si appassiona a quello che vuole raccontare può cercare un minimo di spostare la bilancia in qualcosa di particolare in maniera da catturare l'attenzione del lettore vabbè chiusa chiusa di questa parentesi che si capisce di quanto sono anziano però guarda io che sono più anziano di te mi ricordo il serial televisione americano di Batman e Robin degli anni 60 che ci facevano vedere negli anni 70 che ero bambino che c'era il bang capito? non è un bang se i ragazzi la cercano su youtube si trovano degli spezzoni delle serie di Batman non tenete la mascherina di Batman è disegnata si le sovracciglia esatto a punto che rimandano esatto perché deve rimandare a quanto che sia un personaggio dei fumetti è un comic si 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 poi il Joker vabbè dove l'attore non si piace pagare i barfi meraviglioso il Joker con i barfi era inquietante perché diceva ma non c'era i barfi nei fumetti perché c'era i barfi il dubbio amletico della nostra generazione senti Carmine avete domande ragazzi? se no le devo fare io e invece è più giusto che le facciate voi ecco il professor San Giovanni professore prego posso dire una cosa no non volevo fare una domanda a parte che è veramente bello come dire vedere il il modo in cui si costruiscono le cose perché Carmine c'è questa capacità di spiegarcelo in modo così chiaro tutto quello che uno intuisce semplicemente e finalmente capisce perché alcune cose sono fatte in quel modo e funzionano meglio quindi veramente è bellissimo sentirlo no volevo soltanto dire una cosa che mi mi hanno colpito due cose non tecniche che hai detto e che in cui mi mi ritrovo molto e cioè il fatto che il fumetto mescola pop e underground quindi due modelli narrativi e due come dire universi culturali apparentemente distanti e comincia a farlo fortemente tra diciamo la fine degli anni 60 metà degli anni 60 negli Stati Uniti e da noi invece questa cosa arriva un po' più tardi ed è funziona diciamo ed è va perfettamente in linea con quello che sta succedendo nel mondo culturale più ampio cioè sono esattamente gli stessi anni in cui si mescolano la diciamo la cultura quella che noi oggi chiameremo mainstream no e quindi la cultura diffusa e così via con invece tutte quante delle spinte underground di rinnovamento del linguaggio delle forme musicali cinematografiche eccetera eccetera quindi questo è veramente interessante perché ci fa vedere come il fumetto sia totalmente dentro la costruzione culturale diciamo dei decenni e quindi assolutamente sia perfettamente in linea con quello che sta succedendo ma su fronti diversi e apparentemente più semplici solo apparentemente come è chiarissimo da quello che ci hai appena raccontato e fatti vedere e questa è la prima cosa e quindi mi ci ritrovo moltissimo perché visto che appunto Antonello prima ha citato l'ultimo lavoro che ho fatto l'ultimo obiettivo che ho fatto questa linea è proprio chiarissima in tutti i media e anche nel fumetto che dal punto di vista editoriale invece è trascurato quindi come dire non appartiene alla cultura in quegli anni è considerato una cosa marginale meno importante soprattutto nel quadro italiano e invece partecipa dello stesso movimento culturale e lo trovo veramente una definizione perfetta anzi addirittura lo anticipa anticipa questa fusione tra diciamo così cultura alta e cultura bassa che poi dopodiché semiologi e altri studiosi tirano fuori come una grande scoperta chi le cose invece le faceva per un pubblico ampio le stava già facendo pensa appunto a Kubi prima che qualcuno le teorizzasse e questo è molto mi ha colpito molto mi ha colpito ritrovarlo nelle tue parole e l'altra cosa che ho trovato veramente importante da dire una cosa che hai detto è che ovviamente io e te lo so che siamo d'accordo perché lo facciamo da tempo però penso che sia importante dirlo è che appunto il fumetto riesce a raccontare la realtà sociale che vive anche anticipandone alcuni tratti pur raccontando cose che non c'entrano nulla con quella dimensione appunto Osterled che racconta nell'Eternauta contemporaneamente le dittature nei paesi dell'America e però quasi prevede delle future evoluzioni dell'umanità e allo stesso tempo i fumetti di supereroi che raccontano i contrasti politici negli Stati Uniti a partire dagli anni 60 in avanti ma Civil War e cose di questo tipo lo racconto benissimo insomma ma lì siamo già a un livello diverso perché quella cosa è fatta apposta proprio per cercare un pubblico più adulto ed è quindi tutta dentro un racconto mainstream invece con una logica pop veramente e questo però lo trovo importante da sottolineare sempre in qualsiasi occasione perché così ridiamo quella dignità vera al fumetto anche come forma culturale autonoma capace di raccontare la realtà è una datilografia temporale appunto perciò ho trovato questa vita quello è molto quello è molto bello e mi piace anche molto il fatto che tu sottolinei gli aspetti narrativi si è fondamentale che il fumetto è narrazione è come scrivere un libro non uso le parole però uso le immagini il fumetto è un libro perché comunque ci sono anche i ballon cioè se vogliamo infatti in Italia si chiama fumetto perché era il fumo che usciva dalla bocca dei personaggi questa cosa un po' fascista perché dovete sapere che il fumetto quando fu diciamo iniziato in Italia era molto soggetto a censure per dirvi no per dirti se hai fatto una ricerca c'è per dirvi un milione c'è un personaggio che appariva sul giornalino oppure Betty Page eccetera di fumetti degli anni 30 e 40 in Italia venivano censurati non vi erano i balloni perché pensavano che le persone il popolo non potesse capire che quel fumo che usciva dalla bocca fosse la voce del personaggio quindi venivano cancellati i balloni e sotto venivano messe delle gascalie con delle pilastroche tipo delle poesie fasciste che indottrinavano il fascismo però va bene questo è chiudiamo questo anche in vista italiana però per dirlo ai ragazzi anche prima questo diciamo dall'inizio del novecento in Italia fanno questo tipo di cosa perché abbiamo questa lettura pedagogica un po' arretrata per cui bisognava insegnare a leggere ai bambini e allora invece di fargli vedere i fumetti gli si facevano leggere le filastrocche ternarie che stavano scelta tipo poesiole da imparare a memoria e questo pensava che i bambini così li capissero meglio invece snaturando totalmente un linguaggio che invece era allo stesso tempo complicato da costruire e complicato da decifrare ma anzi per gli intellettuali ma estremamente semplice da decifrare per appunto il popolo perché i fumetti nascono i fumetti contemporanei nascono sui quotidiani o pari quelli per pensate per gli immigrati quindi quelli che non parlavano la lingua che si parlava in quel paese e venivano diciamo così alfabetizzati a quel linguaggio proprio attraverso i fumetti però scusate l'impromissione professore piacevolissimo grazie grazie yellow kid era proprio un'esperienza di alfabetizzazione noi gli Stati Uniti utilizzavano proprio yellow kid questo personaggio questo bambino vestito tutto oro con le orecchie a sventola con la faccina de nerd negli anni 30 perché vi fu una grande crisi economica come quella che stiamo attraversando adesso dove la gente i ragazzi non potevano andare più a scuola quindi nessuno più sapeva leggere e scrivere e tramite il quotidiano pubblicazione di yellow kid gli educarono le persone a tornare a leggere e quindi il fumetto non è semplicemente una narrazione di storie fantastiche o dei fatti miei di quello che mi succede fuori ma ha secondo me il dovere e qui è la responsabilità anche di chi fa il mio lavoro secondo me di riuscire a trovare delle storie che tocchino delle corde o facciano pensare un libro a fumetti secondo me questo è il mio pensiero ovviamente deve essere un qualcosa che ti porta alla riflessione o a una curiosità cioè se io racconto la mia storia di come mi alzo la macchina e il figlio il caffè a quando può interessare ai miei fratelli se va bene che mi vogliono bene ma la grande massa non interessa invece se invece ti metto una storia dove la rendo avvincente però ti do delle nozioni di curiosità senza spiegandotene e tu non le capisci non le comprendi completamente a te che sei lettore appassionato comunque c'è una persona giovane curiosa che è cane tendenzialmente dovresti avere tutti quanti cane in questo periodo di tanta roba ti mette la voglia di capire perché questo ha fatto così perché ha messo l'inquadratura in questa maniera perché ha messo quel bianco e nero perché ha spostato la prospettiva in quell'angolo in quell'angolo come qualcuno l'ho fatto vedere prima Romè e Giulietta con la chiusura del balcone che spiega che deve portare al giro pagina no? perché l'ha messo lì? è arrivare a capire che quello serve per girare la pagina ok? per riuscire a capire quelle cose non è che ti metto prima a spiegare qui adesso devi girare la pagina non ti metti il divino segui capite? come ti appare su Facebook segui scordi pagina o poi in basso in alto cioè ti viene in automatico perché la tua percezione visiva ti porta ad andare avanti la tua curiosità ti porta ad andare avanti e la stessa cosa deve essere il fumetto con il suo linguaggio qualsiasi storia voi vogliate raccontare dovete renderla curiosa prima di tutto e non stazionaria e stagnante nella propria autoreferenzialità perché se diventa autoreferenziale si può essere incuriosito al primo step ma al secondo step già l'ottanta per cento delle persone che vi seguiranno l'avete persa perché c'è state raccontando qualcosa che non incuriosisce dovete cercare di capire anche come raccontare determinate cose faccio un esempio io ho avuto la fortuna con il mercato americano di poter raccontare la storia di Magneto Testament il Magneto Testament è la storia di Magneto il cattivo degli X-Men non so quanti voi lo conoscano le sue origini cioè lui da bambino ed è una storia cruda molto cruda scritta da Greg Pak che si è laureato appunto in quel periodo storico che era quello dell'olocausto perché sapete tutti come nel film che è stato chiuso da Auschwitz no? che poi è stato tratto anche da questa sezione alcune cose sono state tratte dall'albo che ho disegnato io allora quando mi è arrivata la proposta il modo di raccontare americano non è che si sposasse molto con il dramma che il personaggio stava vivendo e con gli americani con gli editor mi sono dovuto confrontare e spiegargli loro che volevo tornare a una narrazione degli anni 70 perché? perché nella natura del fumetto negli anni 70 o quello classico non c'era una sevrapposizione di fumetti e di esplosioni come negli anni 90 come abbiamo già citato prima che c'è stata questa congestione questa globalizzazione con il mondo orientale ma c'è uno schema rigido che in Italia viene chiamato schema Bonelli con una pitta di Nandordo serie di pignette quadrate o orizzontali 1, 2, 3, 4 5, 6 eccetera cosa accade? ho dovuto insistere molto a fargli capire che per quella storia era necessario un'impaginazione di quel tipo perché il lettore americano che non era più abituato a una narrazione passatemi il termine classica perché poi in realtà è il modo di raccontare più moderno pazzesco di camere dentro il riquadro aumentava di più la claustrofobia nel lettore americano che non era più abituato a quel tipo di struttura rigida della pagina e quindi enfatizzava di più il dramma dell'olocausto del personaggio stesso di me quindi bisogna capire anche come raccontare le storie non è che faccio uno stagio a frumenti metto due vignette in sequenza e ho vinto tutto quello che voglio no dovete capire bene come la voglio raccontare perché non è la copertina del frumento ma il contenuto quindi devi capire come le vuoi plasmare è come un po' una massa d'argilla che dovete cercare di capire quando allargarla è come una sensolide di un brano musicale dove ci sono i picchi e dove non è è come la stessa composizione musicale e tutto deve essere fluido diga senti scusa su questo una curiosità e come li hai convinti che mi sa che non è stato facile non è stato tra giù ho fatto le prime tavole ho fatto e loro hanno capito che effettivamente era molto più funzionale e lo stesso break party comunque delle volte pensiamo che il dedito siano il nemico c'è sempre questa mordia tra editor e autori il mio nemico perché mi fa fare le cose come voglio io eccetera invece no bisogna capire che anche loro stanno in ascolto e se loro ti dicono sì o no per determinate cose vuol dire che comunque c'è un ragionamento sotto non è che ti dicono no perché ti avevo un dispetto per dirti una cosa che non mi è stata accettata per dirti era nella storia di Magneto dove nella storia a un certo punto vengono assassinati i genitori vengono fucilati e lui viene buttato in una fossa comune insieme ai corpi dei genitori lui si risveglia in questa fossa comune per i corpi dei genitori della sorella morti e in quel punto avevo deciso di inserire i capelli bianchi per lo shock quindi andavo a spiegare praticamente in quel momento perché Magneto adesso ha i capelli bianchi lì invece non sono riuscito a farglielo capire lì invece mi hanno detto no i capelli devono restare neri se no non si capisce che è un bambino forse lì ho detto vabbè c'è un dramma c'è quello si sveglia c'è i genitori morti però l'ha unito già in parte senti sempre su questo un'altra curiosità poi scusatemi ma io vi devo lasciare un'altra lezione adesso vado a memoria perché non ce l'ho vicino l'albo e dovrei renderlo a prendere ma se mi ricordo bene anche la colorazione diciamo ha proprio dei toni particolari molto diciamo spenti se ricordo bene anche quella è una cosa diciamo che hai chiesto tu hai scelto tu hai discusso con il colorista oppure erano delle indicazioni con l'editor che a magneto è stato il mio ultimo lavoro classico toccata diciamo che poi si è inventato di digitale di nuove tecnologie eccetera ho deciso di lavorarlo bianco e nero in maniera da dare un effetto dei filmati istituto luce dei documentari dei filmati istituto luce della RAI in maniera che per gli americani poteva essere un elemento nuovo tra virgolette per i ragazzi giovani americani ma in Italia per i lettori di fumetti appassionati insomma di un certo tipo si potesse accostare di più a un linguaggio più vicino a loro quindi c'è stata proprio una scelta aromatica e come lo lavorate lo lavorate le tinte le ho realizzate aspetta che se ho qualcosa se posso cerco di farvele vedere se no si parla sempre in astratto forse qualcosa ho allora non fate caso al delivio che si trova fai tranquillamente ti tappo il buco mentre trovi il file chi era a lezione ieri con me sulla creatività abbiamo visto alla fine quello spot televisivo tedesco no? sul coronavirus dove era quasi che parli della seconda guerra mondiale e perché perché lui è posizionato esattamente come le interviste che vengono fatti ai sopravvissuti sulla poltrona messo lateralmente a sinistra perché a un certo punto sulla rifrazione degli occhiali vediamo una fiammata sono piccoli elementi che tu vai a chiudere no? in termini di significato e gli dai quel significato poi lì c'è uno spostamento e scatta l'elemento ironico la la fotografia utilizzata dall'istituto luce poi ritrovata nel tipo di colore del fumetto per chi ha quel tipo di immaginario e conosce quel tipo di immaginario è un riferimento immediato per cui ti porta immediatamente a quel tipo di interpretazione ho tappato il buco a te eccomi guarda mi trovo adesso al volo questa cartella vedi come potete vedere vedi Andrea c'è proprio ho usato delle scale di ligge come le ottenete queste scale di ligge in realtà le ho elaborate al photoshop alla fine in realtà la tavola originale in realtà sono delle tinte seppia questo perché mi manteneva il tratto della linea nero mentre il seppia l'effetto acquarellato vedi qui sulla giacca no eccetera me le davano questo pennerello seppia che io poi dividivo con l'acqua in maniera da non intaccare il tratto nero poi stanzionate con lo scanner trasportate in digitale le ho trasformate in scale di ligge dove poi ho contrastato alcuni elementi e inserito alcuni effetti tipo anche la neve per dirti o i baglioli degli occhi però volevo proprio ottenere questo effetto di fumetto bianco e nero proprio tipo istituto luce e Matt Ollisworld che poi è un grandissimo professionista un grandissimo artista subito ha capito che dovrà inserire un minimo di flat cioè non doveva flat sarebbe leggere come se lo sapete cioè la pinta velata senza andare a contrapporre troppo di ombre perché comunque le ombre già c'erano quindi è andato a intaccare solo con dei cambi di luce cambi di colore dove c'erano i punti di luce tipo qui o qui aspetta che ve lo si riesca a trovare qualcosa qui ecco qua e questi per esempio sono gli storyboard questi per esempio sono gli storyboard vedete beh dicicci un po' Carmine così non c'è problema ne godiamo soprattutto per i ragazzi è importantissimo soffermarsi un po' lo so che per te è come dire è un lavoro su questo è stato tanto tempo quindi anche scontato invece per noi è una scoperta ogni singolo tratto quindi ti prego dacci il tempo di poter godere delle tavole vabbè questo è il lavoro che si fa diciamo di storyboard di layout che tu mandi all'editor e allo sceneggiatore dopo che hai letto la sceneggiatura penso che con Giuseppe e Gianni abbiate parlato per vedere insomma se la scena funziona e se nello stesso tempo sia rispettosa di quanto viene descritto da dallo sceneggiatore per esempio ci sono questi elementi dopo ci sono le varie dovute protezioni per esempio qui avevo pensato di fare questo bombardamento questa legnetta centrale dove loro corrono non scappando e poi alla fine mi è stata detta no palla con una striscia orizzontale cambiala quindi ho fatto la modifica fatta in questa maniera poi l'ho fatta in quest'altra maniera vedete nella stessa pagina ci sono più versioni no vedete quanto lavoro c'è sulla narrazione e modi di raccontare diversi in una stessa scena ingrandiscicelo un po' Carmine grazie avevo deciso di fare sempre gli aerei che lanciano le bombe e qui di scansionare il tempo con dei micro dettagli che ti portavano prima con dei dettagli dei piedi che corrono in mezzo diciamo al grano poi dei puntini lontano quasi indefiniti per ripresentarti nella terza vignetta chi erano quelli che stavano correndo che si nascondono dietro il muro poi da qui è stata cambiata in questa che è stata quella scelta in maniera più chiara e narrativa possibile per il lettore per una lettura più semplice per volte faccio queste cose dove mando sta roba in anticipo per esempio qui nel layout quando devo fare questa minietta nell'ultimo qui c'è proprio un omaggio a ciò che mi ha insegnato De Luca che è il primo autore che vi ho fatto vedere per dirvi ci sono i personaggi che danno questi personaggi che stanno qui che sono i tedeschi questi qua bianchi sulla nostra sinistra che ci stanno andando da una parte mentre i protagonisti scendono in verticali e c'è l'albero che divide le due scene vedete? ci fate caso? l'albero in questo caso mi funge da spazio bianco della minietta è come se mi tagliasse l'inquadratura in due momenti un po' quello che ha fatto lui con il balcone o con il taglio della strada che ti induce a portare la lettura verso destra c'è tutto questo tipo di lavoro per poi arrivare agli elementi delle pagine che poi si concretizzano con queste qui che sono a colori vedete? qui Mattoli ha inserito poi il colore bellissimo Carmine guarda io dare cinque minuti di pausa ai ragazzi in maniera di riportare come dire prendersi il caffè andare alla toilette poi ti prego di tornare su queste tavole ingrandirci e farci vedere come dire il lavoro preparatorio e poi la tavola finale siccome sono bassa risoluzione posso non c'è il lavoro che ti ho fatto vedere ieri sera che è più facile anche in maniera che loro vedono il passaggio e poi volevo farti quando riprendiamo una domanda proprio sul flusso di lavoro di cui parlavamo ieri sera i matitisti inchiostratori coloristi e anche il rapporto con gli sceneggiatori italiani americani però la prima cosa che vorrei è proprio fare insieme a te un viaggio dalla tavola come è stata schizzata fino all'esecutiva perché so che per te è come dire è il tuo lavoro quindi ci scorri velocemente mentre per i ragazzi è veramente poter parlare con un autore come te è veramente oro cioè poter vedere come io non ho avuto a qualsiasi domanda sto qua quindi abbiate fame ragazzi io ho una domanda ecco qui guarda dimmi allora una domanda un po' anche da appassionato perché io recco un po' di tutto se accendi la telecamera siamo più contenti perché così Carmine ti vede un minuto è scomparso no le accenderò le camera non ti preoccupare ma non fa niente vai 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 c'è questa bellissima torre che torre è il mondo scuro non capisco vai Gabriele dici eccoci oh ciao Gabriele togli il muto stavo parlando stavo parlando allora no io volevo un po' capire cioè lo stile che come come hai sviluppato il tuo stile e quali sono i tuoi punti di riferimento fumettistiche allora per lo stile è un dramma adolescenziale che ho vissuto pesantemente sulla mia pelle diciamo che il mercato delle molte ti impone a dover essere clone di qualcuno ok l'esempio più lampante è questa cosa che sta ritornando in voga un po' mi spaventa perché un po' si era sidocanata non so se conosci Stuart Tim Mullen disegnatore Spider-Man Star Wars eccetera un disegnatore cinese rare una sintesi spettacolare solo che però adesso tutti i disegnatori americani ci stanno convenzionando a quello stile il che per il lettore non è una cosa brutta perché ovviamente sono bellissimi disegni ma per te che sei un professionista ti vengono a dire fammi il nome di in Mullen sinceramente diventa un po' frustrante perché non ti porta ad esprimere quello che sei tu quindi nella mia fase adolescenziale ho guardato soprattutto i grandi maestri della mia epoca quelli che mi piacevano di più e ovviamente non si nasce in parati come si dice quindi inizi inizialmente a cercare di copiarli non ricalcandoli se serve a ricalcare inizialmente le problemi pure ma cercando di copiare cercando di capire perché sceglievano quella linea o quella risoluzione grafica cosa per dirti ogart lo conosciamo tutti perché comunque c'è il corpo del movimento di ogart si studia a scuola ma è stato sdoganato tutti i vicini per imparare a disegnare c'è il corpo del movimento di ogart che era il disegnatore di darzan è stato il precursore di quello che era il fumetto realistico perché prima c'era Jack Kirby quel disegnatore di Capitan America che avevo fatto vedere prima che era stilizzato che ha portato il realismo e ha sdoganato le porte John Buscema che è stato considerato il Michelangelo del fumetto americano perché anche se il vero Michelangelo è il panino liberatore abruzzese quindi non si può quindi non la resistono però aveva un dinamismo del corpo e quindi cosa che vi consiglio io quello che ti consiglio io per trovare la tua identità inizialmente guardi tutto ciò che ti piace ma non che ti piace sul momento riguardare quello che tu sfogli sempre perché delle passioni possono essere momentanee può essere un disegnatore che guarda questo che soluzione grafica che ha trovato però non è il tuo ordine perché può essere che è un disegnatore a macchie oppure astratto come Bishinkevich cioè o non è le tue indole grafiche però ti piace perché giustamente le volte ci appassioniamo al trello che non riusciamo a fare e lo vediamo come una chimera vomitando da noi e quindi ci appassiona però tu devi guardare quello invece che in realtà lo senti più vicino a te iniziarlo a emulare e poi pian piano da lì iniziati a distaccare è come quando inizi a disegnare no? che ti dicono fai questo busto no? con la tecnica per disegnare graficamente a scuola in maniera accademica no? però alla fine dopo la trentesima volta che disegno lo stesso busto nella stessa posa se io ti chiudo gli occhi e ti tolgo il busto e riapri gli occhi e ti dico il disegno e tu dici il busto non c'è però il tuo occhio la tua memoria c'è là e quindi tu disegni qualcosa ti rimane quindi nel ritracciare nel riguardarsi intorno a quello che sia che ci piace all'interno del regnetto il disegnatore o colorista o quello che vi pare all'interno delle figure del fumetto una volta che iniziate a distaccare perché nel momento in cui vi iniziate a distaccare a interpretarlo a vostro modo cosa vi è rimasto inizia a uscire la vostra indole perché lo state reinterpretando io sono figlio della reinterpretazione degli autori degli anni 70 perché a loro volta sono figlio della reinterpretazione degli autori degli anni 30 chiaro questo stitino battaglia è figlio dei pittori russi cioè quindi nessuno nasce imparato e nessuno si deve imporre la paranoia devo trovare assolutamente devo essere originale perché l'originalità del disegno oggi tendenzialmente non esiste viene definito originale dai critici soltanto perché quei critici sono dimenticati dei pittorelli di 30 mi fai ricordare Carmine un grande fumetto di quel periodo che era Archibaldo e Petronilla che aveva un gusto Liberty che era favoloso è lo stesso Liberty di Mucia oggi è ripreso da un autore che si chiama Adam Hughes se voi digitate adesso durante la pausa prendete il caffè e fate una sigaretta che mi faccio volere quindi Adam Hughes è Mucia che è osannato oggi come uno dei più grandi illustratori americani ma è Mucia certo quindi non dovete preoccuparvi di trovare la vostra identità con il disegno con il fumetto la vostra più grande preoccupazione è trovare la vostra identità sul modo di raccontare che è diverso fra l'altro faccio come dire questo piccolo intervento prima della pausa poi ci prendiamo a dieci minuti di pausa prima è stato citato il signor Bonaventura il migliore una curiosità è che il signor Bonaventura l'autore era un attore italiano un grandissimo attore italiano che era Sergio Toffano che lo disegnava nei camerini dei teatri pensate e il gusto se andate a vedere il signor Bonaventura è futurista è completamente futurista ma il fumetto è il razionalismo il fumetto è futurista sì sì assolutamente la prima nomatopea è un quadro se non mi sbaglio spero di non sbagliarmi e qui spero di non fare una figuraccia perché però mi ricordo definitivamente chi è spero che fosse il marinè però non sono sicuro sì 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 ma sicuramente perché le parole sono in libertà erano sue insomma c'è il quadro il cannone che spara la rivolta no dal cannone esce fuori il primo balloon cioè la prima prima balloon della storia boom se vedete se vedete il tratto il signor Bonaventura è un tratto proprio razionalista insomma di quel periodo assolutamente come godo come se vi capita di andare a vedere Arcibaldo e per eletronilla ha proprio un gusto libero tiene il costume il tratto nella goda quindi questo quello che diceva il professor San Giovanni prima questo rapporto del come dire della cultura bassa che in realtà bassa non è il proprio tempo e anche l'anticipazione poi del tempo è un rapporto assolutamente stretto posso dire questa cosa ragazzi Star Trek nasce come romanzo poi la serie televisiva parte da un'influzione di un racconto che poi viene disegnato Star Trek chiamava Enterprise con un oggettino che si arriva così e faceva circa Enterprise attivato il teletrasporto ragazzi era il cellulare oggi era il cellulare era il cellulare assolutamente all'epoca era la fantascienza avere un oggettino che si scoperchiava facevi e ti collegavi con un astronave era la fantascienza oggi avete il telefonino capisci che il linguaggio artistico che sia il fumetto che sia una scultura che sia un romanzo che sia teatro sia gli artisti e voi avete questa grande opportunità potete vedere il futuro perché senza l'intuizione artistica gli scienziati non potrebbero immaginare nulla pensate ragazzi che gli scienziati stanno studiando il movimento della base spaziale di Kubrick del 2001 lo spazio che girava e hanno trovato delle realizzabilità cioè il fatto che gira e che girando ricrea potrebbe ricreare una sorta di gravità e quello è un atto creativo è alla fine che anche la fisica sta all'interno dei superpoteri dei supereroi assolutamente è stato fatto un libro la fisica dei supereroi perché Stendino per quando possa essere stato considerato un visionario all'epoca perché quando si presentò con Spider-Man tutti i quali scoppiarono a ridere nessuno lo voleva oggi Spider-Man è quello che è però i superpoteri il supereroe con dei doti particolari che sposta gli oggetti con la fisica sono proprio spiegati scientificamente che possono essere tendenzialmente la visionarietà dell'artista io credo che sia io penso questo che le intuizioni artistiche danno il là allo scienziato cercare di capire qualcosa che non gli appartiene e nel capirla la concretizza la deve fare la deve rendere oggettiva cioè nel senso oggetto proprio tattile mentre noi la riusciamo a vedere che gli artisti creativi assolutamente più creativo che artista i creativi hanno una visione tridimensionale naturalmente l'oggetto ciò che tu disegni lo vedi prima degli altri quello che vuoi raccontare quello che vuoi disegnare lo vedi prima prima di arrivare sulla carta lo vedi e lo conosci lo scienziato che non ha il tuo alfabeto e conosce solo il suo e non è che per capire quella cosa che hai fatto tu la ricostruisce con il metallo o con la tecnologia dell'elettricità cioè cerca di rapportarla a livello fisico per comprenderla quindi gli artisti sono a parte creativi scusate sono la parte integrante della società e non devono essere tenuti in disparte come oggi vogliono un nuovo va bene ci diamo una pausa e intanto do il benvenuto alla professoressa Morgantini che si è collegata e sulla questione arte e scienza ha molto da dire visto che sta facendo un progetto di ricerca interessantissimo ciao Margherita ti presento Carmine di Giandomentico grazie dell'invito Margherita è una importantissima artista di livello internazionale sta facendo un lavoro in questo momento con il Gran Sasso Science Institute proprio sul rapporto arte e scienza insomma quindi questo intervento è stato molto bello e sottolinea l'importanza di questo rapporto ci prendiamo dieci minuti di pausa ragazzi preparate le domande dopodiché Carmine ti chiederò le cose che ti sento sul lavoro e mi piacerebbe proprio entrare nel dettaglio delle tue tavole va bene va bene allora pausa per tutti grazie Margherita ci vediamo tra dieci minuti grazie a dopo